Siamo qui con Manuela Muzzolini, autrice del volume Donne in un mondo di uomini e con Monica Ramazzina, Atene del Canavese, casa editrice del volume Manuela Muzzolini, quali sono i motivi che l'hanno spinta a effettuare questo studio sulle condizioni della donna e a farne diventare poi un volume? Il lavoro era partito nel 2011 in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia Io all'epoca ero assessora alla cultura comune di Aglie e mi ero occupata della condizione della donna nel risorgimento effettuando tutta una serie di ricerche, le quali erano poi culminate nella presentazione di alcuni articoli di storia locale e conferenze sul tema Un anno e mezzo fa, al termine del lavoro sul libro su Gozzano ho parlato con Atene del Canavese di questo lavoro che era cominciato e che si era un po' interrotto perché erano subentrati altri impegni e parlando con loro si sono dimostrati interessati a questo argomento e di qui è nata l'idea di proseguire il lavoro, completarlo e farlo diventare una pubblicazione Questo libro ha avuto un grande sostegno da altre figure? Sì, innanzitutto ho un ringraziamento di cuore al professore Alessandro Perissinotto che mi ha dato fiducia abbiamo parlato di questo mio progetto lui ha abbracciato questo progetto, ha creduto in questo progetto e mi ha consentito a far sì che nel libro ci fosse la sua firma e ci fosse la sua prefazione ci tenevo in particolare proprio perché volevo che la prefazione fosse scritta da un uomo e non da una donna, per non essere troppo autoreferenziali e perché il libro fosse letto da un uomo quindi con un occhio diverso e questo per me era molto importante Un altro ringraziamento veramente sentito va a Paolo Bollero, amministratore delegato della BMW che ha già collaborato ad altri eventi culturali quindi nonostante arrivi da un mondo così diverso, così particolare ha sempre dimostrato una grande sensibilità verso la cultura e tra l'altro anche con lui si ragionava di questo argomento con un uomo che ha esperienze di forse davvero di un mondo di uomini come quello dell'automobilismo e quindi anche per questo mi sembrava interessante sottoporgli questo progetto che ha subito abbracciato con piacere Il giorno della presentazione del libro ci sarà poi un ulteriore amico amico mio ma soprattutto amico del Meletto che è l'attore Mario Brusa che ha accettato di partecipare a questo evento e quindi di leggere alcuni passi del libro con l'attrice Elena Canone e anche di questo sono veramente molto grata perché Mario Brusa è stata una figura cara in tutti questi anni a me e come ci tengo a sottolineare è veramente a questo luogo magico la sua voce secondo me rende e la voce di Elena ancora più magico questo luogo Nel volume si parla di diverse donne che hanno fatto la storia quali sono? Si è deciso di intanto di fare un'analisi della condizione femminile in varie epoche e per ogni periodo ho scelto delle donne che mi sembravano significative nella storia in quel momento partendo soprattutto da una considerazione che la storia esaminata è la grande storia ovvero gli avvenimenti che hanno segnato i momenti fondamentali dell'otto del Novecento quindi il risorgimento, la prima guerra mondiale, il fascismo la seconda guerra mondiale, la costituente e da insegnante quale sono spesso si affronta lo studio di questi periodi storici e si citano sempre gli uomini valorosi che hanno segnato la storia e mi sono domandata ma forse ci sono anche delle donne valorose che hanno dato il loro contributo in queste fasi così delicate della grande storia per cui sono andata a esaminare quelle che erano appunto le donne ce ne sono tante è stata fatta una scelta una scelta intanto legata alla nazionalità è stata fatta una scelta italiana quindi si parla della storia del nostro paese quindi le donne che vengono ricordate sono donne italiane prima di tutto e poi dove vi è stata l'opportunità si è cercato di fare anche un riferimento con il nostro territorio e quindi di donne che sono state legate al nostro territorio Nella prefazione di Alessandro Perissinotto c'è una domanda molto interessante come sarebbe il progresso adesso se ci fosse stata una parità di genere? è una domanda che dà molti spunti e che ci consente di fare molte riflessioni sicuramente, tanto noi non sappiamo come sarebbe potuto essere la considerazione però che ho cercato di far emergere da questo lavoro è questa paradossalmente in tutti i momenti storici più delicati, più tragici, più travagliati del nostro paese le donne incredibilmente hanno avuto la possibilità di conquistare un pezzettino di emancipazione proprio in quei momenti così terribili perché? Perché gli uomini erano occupati militarmente, erano occupati con le guerre e quindi davano la possibilità alle donne necessariamente di entrare nel mondo del lavoro di gestire personalmente la famiglia e così via e quindi di ricoprire un ruolo non solo privato come è sempre stato per le donne ma anche pubblico incredibilmente in ogni fase quindi sia nell'Ottocento sia nel Novecento ogni volta che questi periodi così tragici giungevano al termine e si tornava ad un clima di pace di normalità le donne immediatamente venivano relegate dal pubblico al loro ruolo privato e quindi gli uomini si rimpossessavano dello spazio pubblico e probabilmente se gli uomini avessero consentito alle donne anche nei periodi non così travagliati di proseguire il loro iter di emancipazione forse oggi saremo più avanti nel cammino e invece oggi com'è la condizione? oggi la condizione è sicuramente quella per cui le donne hanno compiuto grandi passi nell'emancipazione hanno percorso un lungo tratto di strada ma la strada davanti è ancora lunga è ancora lunga sia nel secondo me nel privato sia nel pubblico per cui talvolta noi sicuramente abbiamo delle donne che si sono distinte si distinguono in ruoli pubblici ma pare quasi a volte una concessione che viene data loro per cui siete brave quindi quasi vi meritate un premio che non è una legittimazione e che non accade sicuramente per quanto riguarda gli uomini tenendo presente che il mio lavoro e il mio discorso non è assolutamente un discorso di parte perché dobbiamo lavorare e dobbiamo soprattutto educare le giovani generazioni tenendo conto che loro si devono relazionare con esseri umani per cui il genere non conta non si relaziona con donne e uomini ma con persone e ciascuno di loro ha delle qualità dei pregi e talvolta anche dei difetti Donne in un mondo di uomini edito da Atene del Canavese come è stato l'incontro con il libro di Manuela? Sicuramente è stato un incontro interessante perché a noi come case editrice ha dato la possibilità di valorizzare un'autrice canavesana un'autrice del luogo e noi come case editrice sicuramente valorizziamo gli scrittori di casa nostra e in più ci ha dato la possibilità di affrontare un tema di ampio respiro quale è appunto quello delle donne in un mondo di uomini poi consideriamo anche il fatto che Manuela Muzzolini è un'amica con la quale io personalmente in quanto collega perché siamo entrambi insegnanti abbiamo condiviso già altri progetti di tipo culturale e quindi sicuramente abbiamo dato fiducia a questo suo lavoro che speriamo appunto possa essere un nuovo inizio da questo punto di vista Quindi non soltanto perché è un bel libro e ben scritto ma anche il tema, l'argomento vi attratti? Certamente il tema in primis noi come stavo dicendo poco fa siamo una case editrice che valorizza il territorio ma è aperta sicuramente a temi di più ampio respiro quale quello delle donne e non soltanto quindi ci sembrava interessante poter approcciare una tematica di questo genere per ampliare anche l'offerta da parte nostra e anche per coinvolgere un pubblico sempre più ampio Il libro verrà presentato ufficialmente il 17 giugno? Esatto qui al Meleto in questa bellissima cornice verrà presentato nell'ambito di un evento in cui appunto ci saranno delle letture tratte dal libro e ci saranno anche degli intermezzi musicali da parte di giovani musicisti quindi insomma questo renderà ancora più interessante l'insieme insomma la presentazione Apriamo l'invito al pubblico che ci guarda che ci ascolta a che ora? Certo allora la presentazione l'evento per meglio dire sarà a partire dalle 4 per un paio d'ore diciamo dalle 4 alle 6 quindi siete sicuramente tutti invitati a partecipare per confrontarci insomma non soltanto per ascoltare perché ci auguriamo che questa tematica possa aprire a delle riflessioni ecco personali collettive quindi possa farci riflettere su una tematica che non riguarda soltanto le donne ma riguarda anche gli uomini il rapporto che c'è tra uomini e donne il percorso che queste ultime hanno dovuto compiere nel corso della storia e stanno ancora compiendo anche nella nostra civiltà occidentale perché adesso noi ci concentriamo come ha detto Manuela poco fa sulla donna del nostro paese italiana quindi le donne che noi prendiamo in considerazione sono italiane ma questa è una tematica che si apre anche ovviamente a donne di altre culture appartenenti ad altre culture quindi non soltanto quello occidentale quindi questo potrebbe essere un modo per per fare una riflessione ecco insieme insieme a tutti noi quindi siete sicuramente invitati a partecipare a questo evento il 17 giugno alle ore 16 qui a Villa Meleto grazie grazie vi aspettiamo quindi il 17 giugno a Villa Meleto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.